buongiorno e bentrovati a leoni files il podcast settimanale dell'istituto brun leoni che come ogni settimana conduciamo con carlo a menta orfani di serena si leoni e come sempre anche oggi abbiamo un ospite che è un caro amico nostro e dell'istituto bruno leoni ma soprattutto è una persona che oggi ci tiene compagnia per parlare di un libro che ha appena dato alle stampe parto dal libro si intitola next gozio commercio al dettaglio nell'era digitale quale futuro dopo il covid 19 gli autori sono manuel fae e patrizio bertin benvenuto manuel manuel è imprende un imprenditore si occupa di marketing e telecomunicazioni e comunicazioni fa consulenza ha nel passato sviluppato un approccio molto originale al tema del marketing commerciale e in qualche modo questo approccio su cui poi magari gli faremo qualche domanda precisa è un pezzo è una parte della della riflessione svolta appunto con bertin nell'ambito di questo libro che un libro estremamente interessante perché affronta almeno due aspetti differenti da un lato ricostruisce una storia davvero appassionante in cui si imparano tante cose a meno un sacco di cose che io non sapevo prima su come è cambiato il mondo del commercio nell'arco degli ultimi decenni su come ha continuato a cambiare e su come le trasformazioni digitali stanno incidendo oggi sul mondo del commercio in particolare dopo ovviamente il trauma del covid 19 e dall'altro lato offre degli spunti degli approfondimenti per cogliere queste trasformazioni e farne un volano di crescita e di reddito e non un maremoto dal quale nascondersi quindi anzitutto benvenuto manuel e grazie del tuo tempo grazie assolutamente a voi buongiorno buongiorno a tutti buongiorno man buongiorno carlo 1 e carlo 2 esatto allora io comincerei la nostra chiacchierata proprio con una domanda abbastanza generale una domanda quasi esistenziale perché ce ne deve fregare qualcosa del mondo del commercio e non ho una risposta per tutti posso dire perché a me me ne è fregato a un certo punto in realtà una cosa il libro è un po una genesi strana per il fatto che il coautore patrizio bertin è tra le varie cose anche presidente di commercio veneto lo conosco da tanti anni e per alcuni motivi per variati motivi insomma si parlava si collaborava in varie situazioni è successo che siamo a fine 2018 io e lui qua da voi si può dire senza girarci intorno abbiamo fatto un litigone abbiamo una discussione pesantissima perché poco prima di natale era uscito il classico titolo da giornale in un giornale locale in veneto da noi dove sostanzialmente diceva il problema del commercio al dettaglio del fatto che i negozianti in questo momento non stanno vendendo è amazon ed è amazon perché non amazon è così perché non paga le tasse e uccide il commercio e l'ho incrociato lo stesso giorno per strada davvero faceva freddo questo me lo ricordo bene l'ho incrociato incrociato patrizio bertin per strada gli ho detto senti io ho capito sto vessillo no del salviamo tutti quel vessillo di colpa di amazon però dico secondo me questa cosa prima o poi ti si ritorce contro perché è veramente una sciocchezza dire questa cosa ecco non sto a tediare non sto a convincere voi di questo aspetto e in realtà un po lì quello che è successo ascolterà questa cosa si arrabbierà ma lui un po subito sì lo so però sai è un po più semplice da spiegare così ma dico no ma così stai dicendo veramente una sciocchezza perché è una bugia non è una cosa più semplice questa non è che mancano questa è una bugia vabbè sono stati giorni un po caldi dove più volte dovevamo vedersi anche per aspetti di lavoro io sono tornato forse mi ero infervorato sono un po un permaloso poi su queste cose dico ma ti pare che guarda che esistono un numero che credo sfiori quasi il mezzo milione di attività di negozianti che grazie a amazon vendono allora è come se ti dicessi a questo punto che se ci sono ancora dei negozianti vivi è merito di amazon ma ti pare un modo corretto di riportare le cose quindi questo è un po l'aneddoto da cui nasce ribadisco nel 2018 l'idea del libro perché ci siamo detti in maniera sfidante perché non proviamo a mettere insieme a fare un'analisi a vedere davvero qual è la situazione cosa sta succedendo e se davvero la questione trasformazione digitale perché poi si parlava di questo è trasformazione digitale uguale ci sarà l'e-commerce che è uguale a amazon e quindi morirà il commercio al dettaglio mi pare veramente stupido però dobbiamo mettere insieme le cose a capire invece se è qualcos'altro se è come credo un po più articolato e così abbiamo fatto quindi questo è un po il motivo poi perché ce ne dovrebbe fare gara del commercio al dettaglio posso dare la mia opinione tenendo conto che parliamo di commercio al dettaglio in italia io se non mi sfugge qualcosa magari voi avete qualche informazione diversa ma non esiste paese al mondo dove ci sia una diffusione così ampia una densità così ampia di unità locali di di attività locali commercio al dettaglio negozi di vicinato tra l'altro quasi tutti di micro aziende aziende individuali allora è chiaro che giusto o sbagliato che sia questo questo è un fenomeno che c'è da noi c'è da tanti anni c'è per motivi storici per motivi di oro genesi perché siamo il paese dei campanili a prescindere dal motivo quindi è chiaro che andare a vedere cosa succederà con la trasformazione digitale al commercio al dettaglio secondo me è un senso che non abbia anche delle valenze potenzialmente sociali che succede se chiudono tutti i negozi dicono la prima che mi viene in mente ai ghi mobili e quindi al valore dei ghi mobili è una cosa che stiamo stiamo vedendo proprio a causa della pandemia ecco allora io entrerei un attimo nel merito anche delle non dico delle soluzioni perché il libro è un libro equilibrato non si propone di dare soluzioni magiche bacchette magiche non ne avete e chiaramente descrivete anche questo è rilevante interessante carlo l'ha sottolineato prima cioè descrivete un passaggio che in qualche modo la pandemia ci sta portando a guardare in faccia ma che non è figlio della pandemia cioè viene da da decenni ormai passati ecco ci sono alcuni concetti secondo me importanti su cui ti vorrei un attimo vorrei che ti soffermassi cioè su quello che è per voi la visione di ciò che sarà cioè di quello che può essere questa convivenza che tu effettivamente stai 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 indicando cioè la convivenza tra il mondo online e il mondo offline appunto il titolo proprio del libro lo dice no il negozio del futuro in qualche modo ecco il concetto di omni canalità di omni channel il concetto di experience economy mi ricordo la facevo sempre agli studenti no pine e gilmore lo negozio che diventa un posto nel quale gli aspetti ludici dello shopping gli aspetti esperienziali emozionali diventano più importanti in cui l'acquisto in qualche modo passa un po in secondo piano ecco dici un po quali sono le tendenze che voi vedete in questo libro e che possono costituire le opportunità proprio per chi nel settore vive e deve innovare sì e allora anche qui come accennavi tu adesso carlo noi facciamo a un certo punto nel credo sia il terzo quarto capitolo quando parliamo del consumo a dirla in due parole facciamo la distinzione tra quelli che sono i cosiddetti consumi funzionali da quelli esperienziali quindi è chiaro che nel 2021 se mi si scaricano le batterie dell'orologio a parete io ho bisogno delle batterie affinché l'orologio riprenda a funzionare ed è molto probabile e inutile che ci giriamo intorno cioè io voglio il metodo più veloce economico migliore per me per avere quelle batterie là probabilmente poco me ne frega che griffa abbiano sopra deve far funzionare l'orologio quindi tutti gli acquisti che sono funzionali ahimè ripeto è molto probabile che io possa utilizzare non voglio dire l'e-commerce per acquistare ma se è possibile averle a casa con meno fatica lo farò ripeto è un esempio non voglio generalizzare poi ci sarà chi ha la ferramenta sotto casa chi verrà comodo non vogliamo prendercela con chi vende batterie e queste cose però il mondo cambia diciamo però questa cosa merita una riflessione in realtà perché se da una parte io sono convinto che il tema i fatti non io la trasformazione digitale dà delle opportunità anche le attività locali per altre segna un po' il tempo e dice attenzione perché appunto perché le cose sono cambiate o stanno cambiando da 25 anni meritano una riflessione giusto per essere chiari e non girarci intorno ma questo perché per come siamo noi umani per come stiamo cambiando noi il nostro comportamento in funzione di quello che è successo sta l'estensione del braccio che abbiamo oramai attaccato al quale c'è sempre un smartphone che contiene tutto il mondo dei social e tutte le informazioni che vogliamo istantaneamente e beh ma è chiaro che non è come prima cioè noi che siamo tutti e tre posso dirlo immigrati digitali abbiamo presente cosa era il prima internet di internet e il dopo di internet ma a partire da chi ha 30 anni al massimo indietro probabilmente non ha coscienza di questa cosa è della cosa più normale al mondo per per noi tutti loro soprattutto se devo informarmi cercare una cosa vedere se c'è un bisogno ma è chiaro che uso il telefono e uso lo smartphone o mi informo in qualche modo online e non lo faccio con cattiveria perché dico così non vado dal negoziante è il mondo che funziona così ma in questo nella misura in cui il negoziante ha chiaro questo questa dinamica questo processo noi abbiamo messo dentro anche due righe sul processo d'acquisto non voglio tediare nessuno però se tu hai chiaro questo aspetto qua in quanto negoziante e lo sai sfruttare probabilmente puoi averne un vantaggio ecco la trasformazione digitale può aiutarti scusate se la banalizzo un po' ma per provare a essere concreti quindi soluzioni non è un tema di soluzioni facili a proposito ma è sicuramente un tema di stare al passo coi tempi che sa da supercazzola ma di utilizzare questi strumenti di fatti trovare dove la gente ti cerca di dare il servizio come ti deve dare come vuoi che il servizio ti venga dato altro esempio sei un negozio che vende souvenir in una città turistica sei a venezia ok al giorno d'oggi visto che quando si parla di trasformazione digitale bisogna parlare di sistemi di pagamento bisognerebbe parlare di logistica banalmente anche lì si arriva un turista vede un quadro meraviglioso ti dice mi piacerebbe avercelo ma non deve essere in discussione il fatto che tu gli dici non ti preoccupare te lo faccio trovare a casa quando arrivi dimmi cosa hai bisogno ma raggio tutto io non può essere che io sono un negozio no il quadro te lo porti poi vedi un potere come fare siamo a questo livello dove ancora incredibilmente in taluna situazione non c'è stato il cambiamento allora voglia urlare è colpa di amazon è colpa di yux è colpa di ebay questo in questo senso lo trovo una sciocchezza ecco ecco manuel in parte l'hai già accennato e questo è un elemento del libro che io credo sia essenziale far emergere questo libro parte dal presupposto che è colpa di amazon nello stesso senso in cui tutte le volte che arriva un competitor più efficiente è colpa sua se tu sei costretto a cambiare il tuo il tuo modo di lavorare un aspetto che io ho trovato molto istruttivo del vostro ragionamento è che voi partite dall'individuazione di quali sono gli aspetti sotto i quali amazon e l'e commerce in generale mette in mora in qualche modo il commercio tradizionale tipicamente la capacità di praticare prezzi più bassi grazie ai volumi maggiori la comodità di ricevere i prodotti a casa la possibilità di avere una scelta infinitamente più ampia perché il campionario che ti offre amazon è per definizione infinitamente maggiore rispetto al campionario che puoi trovare in un negozio fisico contemporaneamente mettete in luce quali sono invece i vantaggi competitivi che il negozio fisico nonostante tutto conserva almeno in alcuni in alcuni settori merceologici probabilmente non in tutti che vanno dal dalla possibilità di toccare con mano le merci io non vedo un vestito un paio di scarpe o anche un libro su uno scaffale digitale ma lo prendo in mano lo sfoglio lo peso sento il tessuto e così via il rapporto con col commerciante con i commessi eccetera e così via e cercate di spiegare o di indicare come il commercio potrebbe far leva su questi vantaggi competitivi per costruirsi una nicchia diversa da quella attuale e per spostarsi dalla mera vendita di prodotti e di servizi a basso valore aggiunto alla vendita invece di prodotti e servizi inclusa se vuoi la consulenza al cliente o rapporto continuativo con il cliente ha più alto valore aggiunto nel fare scusami scuso la domanda è lunga ma volevo arrivare un punto preciso nel presentare queste questi due estremi diciamo così questi questi due poli tra cui il mondo del commercio scilla voi mettete al centro cliente vedete fondamentalmente il commercio deve interrogarsi su cosa cerca il cliente su qual è l'esperienza di acquisto che vuole vuole vivere e in che modo il negozio fisico può contribuire a migliorare questa esperienza d'acquisto la cosa interessante è l'enfasi e diciamo l'enfasi analitica come dice michele boldrini l'enfasi di ricerca che mettete nella descrizione di questa esperienza di acquisto ci puoi aiutare a mettere a fuoco un po questa prospettiva e il metodo che proponete per per affrontarla razionalizzarla e farne un una pratica commerciale una pratica di business ci provo nel senso che allora c'è c'è per chi io mi occupo da qualche anno un po di comunicazione ci provo almeno nel mondo del digitale ci sono trovato in mezzo per sbaglio questa è la mia storia professionale perché nel 97 quindi non c'era ancora google un anno prima va bene in qualche modo iniziava ad esserci il tema di cosa succede online io mi sono laureato l'anno prima la tesi l'aveva fatta online avevo scoperto la banca dati della comunità europea quindi io vengo da lì da lontano poi sono successe tutte le cose che ben conosciamo oggi ahimè per esperienza mi è chiaro che ma non per me è chiaro anche da un punto di vista per tutto logico che nella misura in cui tu sei in grado di fare l'analisi del processo d'acquisto del tuo cliente se mi metto a fare il negoziante se mi metto a fare il titolare dell'attività nella misura in cui io so analizzare il processo d'acquisto del mio cliente so dove mi scopre potenzialmente può scoprirmi so dove mi cerca so cosa cerca so quando mi cerca so quanto tempo prima mi cerca so che informazioni vuole adesso potrei parlare per otto ore di seguito ma il tema è questo qua cioè tu non puoi far finta di niente dire una volta funzionava così fino a dieci quindici anni fa e quindi continuerà a funzionare così no perché è lì il tema è il tema vero ed è un po della svolta cioè di avere coscienza cioè ripeto un'altra difficoltà di immagino i negozianti è dire un giorno arriva uno mi parla di facebook il giorno dopo arriva quello che mi parla di instagram poi mi hanno detto che devo avere il sito web ma che serve l'e-commerce ho speso un sacco di soldi per l'e-commerce non è mai successo niente quindi probabilmente ti viene anche la rabbia a un certo punto dici per forza che è colpa di amazon se io ho fatto tutte le cose non funzionano a un certo punto è colpa di amazon sempre perché è bello avere il nemico quando in realtà ripeto l'appreccio semplicistico quello che ti permette di farti male l'approccio un po razionale quello che cerchiamo di proporre noi invece è quello che ti permette di dire senti prova con un criterio perché se utilizzi quel criterio la probabilmente sei in grado anche di andare un attimo a misurare a vedere quello che effettivamente succede ed eventualmente a portare delle correzioni o a scoprire che non funziona ma hai un perché hai un perché tendenzialmente più chiaro non è ho provato ho sparato a destra e a sinistra e non ho colpito nessun uccello oppure mi sembrava che passassero tanti uccelli che armi hai usato quindi l'approccio nostro adesso noi lo ripeto parte da nel libro di bertin facciamo accenno a quello che è il metodo che io e alessandro sportelli che è un mio caro amico un socio su cui abbiamo lavorato anni perché è servito a noi a razionalizzare un criterio per poter approcciarsi ai clienti quando ti arriva uno che dice io vendo scarpe te ne arriva un altro che ti dice io ho una catena di ristoranti oddio dovendo parlare di marketing e comunicazione c'è un modo per come dire sistematizzare un'analisi per poter dire a un cristiano ha senso fare queste cose non ha senso fare queste cose quindi un po abbiamo messo giù quel paragrafetto per quanto sia concentrato ma l'idea di provare a dire proprio ribadisco anche a chi è in attività e non è che deve avere una laurea in comunicazione dire guarda che abbiamo chiaro che ci sono tanti strumenti oggi se tu provi dal tuo punto di vista a vedere banalmente a rispondere alle domande quali dove può scoprirmi il mio cliente che significa e mi scopre perché vede la gente che esce dal mio negozio con la borsetta gira per il paese c'è il logo sulla borsetta fino a mi ha scoperto su facebook perché io c'ho una pagina ogni tanto faccio dei post l'insieme delle due cose c'è la signora maria che ne parla perché c'è l'online e l'offline delle due cose che si mescolano o si parla di un live oramai da anni e quindi noi proviamo a dire un attimo calma sangue freddo proviamo a mettere insieme le cose e a dare un ordine a queste cose non so se sono riuscito a rispondere perché se no dovrei entrare nel merito di tedio per dei giorni no 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 volevo però andare in chiusura su un argomento che voi toccate perché punto poi passate dal processo decisionale di scelta adesso tu diciamo ti sei un attimo concentrato sul lato dell'offerta no del processo del però giustamente voi fate anche riferimento a un interessante concetto è quello dell'eccesso delle scelte no delle incapacità poi del c'è un fantastico libro di art of choosing vicina ingare che consiglio a tutti altrice di un famoso esperimento in un in una in una nota drogheria si usava forse prima prima dell'offline molto prima ma insomma avete capito di cosa si tratta sulle marmellate no fanno fanno un esperimento nel quale mostrano i vari tipi di marmellata e dimostrano che meno scelta si dà al consumatore più poi il consumatore è capace di scegliere quindi quando gli danno troppe troppe informazioni troppe scelte poi il consumatore si confonde ecco da questo punto di vista a tuo avviso il negozio nella sua struttura nuova può ancora essere un elemento di forza nel commercio proprio per questa parte in qualche modo consulenziale di orientamento del consumatore sì grazie del suggerimento che era quello che a cui accennava prima carlo due no nel senso che si parla di paralisi da scelta in questo caso quindi è chiaro che il valore consulenziale in questo caso del negoziante può fare la differenza anche qua molto realisticamente quanto è bello quando arrivi in un posto se c'è qualcuno che ti dice posso aiutarti dimmi dimmi qual è il tuo problema che io provo a suggerirti la soluzione e nella misura in cui io riconosco in quella figura in quella persona un esperto il fatto che mi dedichi del tempo per dare una soluzione questa cosa fa ancora la differenza sicuramente fa la differenza mi viene un esempio una decina d'anni fa oramai non esempio fa parte anche questo della storia nel mondo del turismo il mondo agenzie di viaggio è stato stravolto un po anche smontato dal dall'online perché se una volta le agenzie di viaggio potevano permettersi fino al 2000 più o meno di fare anche i distributori di cataloghi di vacanze ok poi con online oggi non esiste più nessuno possiamo dirlo o è un rarissimo caso qualcuno entri in agenzia dica buongiorno mi dai cataloghi di quest'anno che poi vado a casa a scegliere di hotel chi si è salvato lì anzi chi ha fatto un salto in avanti più che le agenzie di viaggio gli agenti di viaggio volendo individuare dentro agente di viaggio le persone che hanno competenze soprattutto specifiche perché è chiaro che se ho bisogno di una camera a roma o a milano devo spostarmi non vado più in un'agenzia di viaggio oggi ok ci sono mille strumenti per farlo lo fai online ma allo stesso modo se finalmente quest'anno potrò farmi un viaggio di 15 giorni 20 giorni in nepal che ne so nella misura in cui io so che trovo una persona che è esperta di quel tipo di vacanza lì o di esperienza lì io non vedo l'ora di poter pagare addirittura per avere la sua consulenza che è difficile sostituire con ci puoi informarti anche online per carità ma vuoi mettere sto cercando di fare una differenza di fare fare un esempio per non so se sono riuscito a rispondere carlo a quello che dicevi il tema della paralisi da scelta tornando all'inizio è chiaro che uno degli elementi su cui i negozi devono fare leva è il tema della relazione con gli utenti e qua relazione con gli utenti non vuol dire per forza aspetta che quando entro ai negozi lo devo trattare bene c'è tutto un prima e ci sono un sacco di strumenti a proposito di trasformazione digitale che ti permettono di rimanere in relazione con gli utenti questa è sfruttare la trasformazione digitale ecco e questo scusami chiudo chiudo su questa nota che che hai toccato in chiusura del tuo intervento ne approfitto per rifar vedere la copertina del vostro libro perché uno degli aspetti interessanti che affrontate nell'ultima parte nella parte conclusiva del libro è appunto come il digitale può rappresentare un'opportunità anche per il commercio fisico per il commercio di prossimità non solo nelle dimensioni diciamo così più ovvie l'e-commerce o la pubblicità che pure come dire sono ovvie ma ovvie fino a un certo punto perché poi vanno costruite bene un sito malfatto è inutile nella migliore delle ipotesi un sito malfatto a volte può essere addirittura dannoso un processo di acquisto online farraginoso lungo complicato lento eccetera quasi mai comporta poi effettivamente la chiusura della transazione ma addirittura voi fate vedere come anche un esercizio di ridotte dimensioni può utilizzare i dati in maniera intelligente come come strumento di business e diciamo fate vedere tutta una serie di opzioni di opportunità che la tecnologia mette a disposizione non è il caso di entrare adesso e quindi chiuderei così mantenendo il libro in primo piano chiedendoti proprio una battuta questo libro che è un libro che può essere letto sia da chi diciamo sta nel business del commercio sia da chi fa altro nella vita ma è interessato ma è interessato a capire se tu mi sei parlare a queste due categorie di persone cioè quelle che possono vedere in questo libro un libro di ricerca da cui imparare cose nuove e quelli che possono vederci invece un libro di studio di di lavoro di lavoro di apprendimento cosa gli diresti per convincerli a comprarlo allora io provo a rispondere in maniera presuntuosa ed egoistica e mettendo insieme le due cose che tu hai detto nel senso che noi abbiamo provato a scrivere un libro con la pretesa di dare una serie di informazioni di permettere il processo di studiare soprattutto a chi ha un'attività di commercio al dettaglio questo è un po proprio per provare a essere anche un po settoriali poi abbiamo già una serie di testimonianze in realtà di feedback che ci di anche chi di chi non è del 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 mestiere del settore e dice beh carino c'è dentro un bel pezzo di storia ci mettete insieme anche tutta la parte della digitalizzazione interessante però l'idea nostra il tentativo nostro appunto era cosa possiamo dire come possiamo dire a chi oggettivamente fatemi banalizzare anche qua tutte le mattine alza una serranda di un negozio e nella situazione in cui siamo cosa potrebbe essere utile o meno e quindi se dovessi usare una parola per riassumere il libro il tentativo è di dare trasferire della consapevolezza un po il terreno su cui poi ognuno dovrebbe meglio adattare le proprie necessità vorremmo che questo fosse il terreno un po contenesse un po anche il concime o concime non so mai trovare l'accento per poter tenere in considerazione quella che è la trasformazione digitale quello che abbiamo cercato di mettere dentro per renderlo forse un po meno accademico ma un po più denso sono state tutta una serie di dati questa è stata un po forse la fatica l'unico se dobbiamo prenderci un piccolo merito è che abbiamo fatto un po di fatica a cercare dati fatti circostanze anche aneddoti volendo senza ovviamente aver la pretesa di dare soluzioni facili perché lo sappiamo più poi provi a studiare un fenomeno complesso più almeno personalmente tendo ad osservarlo a dire questi sono i fatti proviamo a ragionarci assieme e mi tengo sempre anche aperta la possibilità di aver detto qualche sciocchezza sono più le considerazioni scusami le analisi che cerchiamo di fare che le considerazioni che noi mettiamo alla fine considerazioni che mi sento anche di dire tutto sommato forse dovrebbero essere ovvie e in questo senso dovrebbero contenere anche un messaggio di speranza per chi ha un'attività locale oppure dovrebbero aiutare aiutarlo a a dire in maniera più fredda senti forse questa non è più la strada corretta val la pena sterzare anche qua non so se ho risposto non ho la pretesa di dire perché uno dovrebbe comprare questo libro per carità lungi io vorrei aggiungere una cosa che è un po rara siamo in chiusura ringraziamo manuel fae vi invitiamo a comprare il libro il libro è un bell'oggetto cioè devo dire che contrariamente a quello che si vede ultimamente con edizioni spesso è è un bel libro devo dire sì è anche un bell'oggetto è fatto bene ci sono devo dire i grafici a colori devo dire che non è fatto veramente una cosa che si legge con piacere ecco io questo lo devo dire sembrerà una banalità ma insomma visto che stiamo parlando di digitalizzazione spesso ormai siamo abituati a guardare le pagine sui colori vivi di un di uno schermo o appunto di un ipad da questo punto di vista il libro la sua forma cartacea resta davvero un bell'oggetto e di questo diciamo devo rendere merito agli autori grazie manuel per essere stato con noi grazie manuel ricordo manuel fae patrizio bertin next gozio commercio al dettaglio nell'era digitale quale futuro dopo il cove 19 prefazione di michele boldrim postfazione di carlo sangalli editore il prato lo potete comprare sul sito dedicato next gozio.it su amazon su altri portali online e naturalmente nella vostra libreria di fiducia bravo buona giornata a tutti arrivederci ciao manuel grazie ciao grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti